Partita scoppiettante ha scoppito, sei gol ma i tre punti vanno al San Nicolò che ha fatto valere il suo maggiore tasso tecnico e la superiore panchina rispetto alla Miternina. Il San Nicolò torna così a vincere in trasferta, non accadeva da Recanati alla quarta giornata. Il tecnico scoppitano Angelone ripropone il 4-3 con il tridente Torbidone, Gizzi e Teriaca, quest'ultimo in gol a Iesi, 4-2-3-1 per Epifani, Valim, Iaboni e Santoni a sostegno di Bartolini. Primo a fondo della partita e primo gol, San Nicolò in vantaggio con il destro tutt'altro che irresistibile di Cristian Stivaletta, Di Fabio va giù goffamente e la palla dopo il rimbalzo passa tra le mani dell'estremo di casa per il vantaggio San Nicolò. La Miternina non ci sta e reagisce con alcune percussioni, una in particolare di Gizzi, al quindicesimo palla sull'esterno della rete. Il San Nicolò ha qualità e quando gioca sono dolori, spunto sulla sinistra di Valim, girata a centro area di Bartolini e gran parata di Di Fabio che in parte riscatta l'errore iniziale. Poco prima della mezz'ora la Miternina impatta, al ventiseesimo lancio di Carrato, contrasto Gizzi di Gifico e palla in corner. Sul seguente angolo Mischia Furibonda, al culmine della quale Boggi respinge con un braccio la girata di Di Ciccio. Ruggero di Roma 1 ordina il rigore e ammonisce il difensore San Nicolese. Delle 11 metri l'esecuzione di Torbidone non è impeccabile, ma di Gifico può solo smorzare e non respingere. 1-1 col quinto gol in campionato per Torbidone. Parità che dura poco, al trentaseesimo Iaboni riceve da Bartolini ma tira troppo centralmente. Al quarantesimo il nuovo vantaggio del San Nicolò, corner di Iaboni e imperioso colpo di testa di Stivaletta che si insacca sotto la traversa. 1-2, quarto gol in campionato per il centrocampista ex Vasto Marina, alla seconda doppietta stagionale dopo quella di Chieti. Al quarantaduesimo Gizzi trova la via del 2-2 ma il gioco era stato già fermato per un offside dell'attaccante di casa. La partita si mantiene frizzante anche nella ripresa, al nono spunto Didi Paolo per Gizzi che liscia il tiro. Diciottesimo break di Stivaletta che crea i presupposti per un contropiede in superiore da numerica ma è poi egoista. Ignore i compagni e spara alto. E dopo due minuti San Nicolò paga la leggerezza, corner di Carrato e rompe Capitan Valente che anticipa tutti e fa 2-2. Gara sempre scoppiettante, un minuto dopo grande chance per Valim, uscita bassa decisiva Didi Fabio che salva. Sul capovolgimento di fronte Rausa tira alto, alla fine decide la panchina. Epifani mette dentro Moretti per Iaboni al 29esimo. Ecco lo splendido terzo gol del San Nicolò, lancio di Valim, torre di Bartolini e sontuosa staffilata di Moretti. Palo gol e vantaggio definitivo stavolta per il San Nicolò. L'ultimo sussulto dei padroni di casa è il piattone di Rausa, poi entra Chiacchiarelli al 33esimo per Santoni. L'esterno di Crecchio al 37esimo calcia una potente punizione che Petrone svirgola malamente nella propria porta. 2-4 è partita definitivamente chiusa. La mia ternina si congeda con una sconfitta da un 2014 comunque molto positivo per il San Nicolò. È pronto finalmente il decollo in una classifica ancora bugiarda. Sapevo che la partita era così, tirata, perché loro sono una buona squadra e poi in casa specialmente sono molto pericolosi. Però noi abbiamo avuto oggi un atteggiamento importante che ci dà una grande inizio di fiducia per il futuro, perché vincere qui non è assolutamente facile e l'abbiamo fatto con grande merito. La panchina decisiva con Moretti e Chiacchiarelli che hanno sferrato i colpi del K.O. Sono contento per i due ragazzi perché devono giocare titolare, non hanno giocato, sono entrati, sono entrati bene. E questo è frutto di avere un grande gruppo perché chiunque ha giocato fino ad oggi ha fatto bene. È peccato perché nei loro gol abbiamo praticamente incartato il regalino di Natale. In tutti e quattro c'è grossa responsabilità nostra e siamo stati costretti sempre ad inseguire e anche a lasciare degli spazi per le loro ripartenze. Anche con la qualità di gioco siamo andati bene, però siamo stati poco cattivi negli ultimi 20-30 metri. Alla fine abbiamo concluso poco per quanto è prodotto nell'arco dei 90 minuti. Quindi è stata una partita strana, una partita dove c'è stato l'impegno, però è difficile da commentare perché purtroppo appena sbagliamo ci fanno gol e ultimamente sbagliamo molto spesso, quindi dobbiamo lavorare su questi cali di attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.